Sì, io sono contento di essere qua Io amo l'Inter, sempre Mi trovo bene nella mia squadra Mi sento a casa Sì, prima devo dire Voglio ringraziare la società Per avermi rinnovato il contratto Poi ringrazio il presidente Toghir Pupizanetti, mister Mancini Lo staff della società Compagni, tifosi Poi un grazie particolare Va alla mia famiglia Per avermi sostenuto in questo percorso Sono contento di rimanere qua Poi ho sempre sognato di giocare con questa squadra E di indossare questa marietta Per me è un grande onore Ne sono orgoglioso Ci confermi che c'erano queste offerte importanti Comunque dall'Inghilterra E tu hai preferito comunque rimanere? No, io non ho mai pensato Andare via Mai Io, come ho detto prima Amo l'Inter Quindi io voglio dare il massimo Per realizzare il nostro obiettivo Chiuto, tu hai fatto una scelta in controtendenza Perché tanti vogliono andare a giocare in Inghilterra Tu sei voluto rimanere in Italia Che cosa ti lega in maniera così forte all'Inter? E perché hai detto no al Manchester? Sono cinque anni che sono qua Tutti mi tolgono bene Mi aiutano sempre Quindi sì Tanti giocatori forse In questo momento Vogliono andare in Inghilterra Però Io no Perché Mi piace tantissimo l'Italia Mi trovo benissimo Nella mia squadra E quindi che devo dire Niente Io sono contento di rimanere qua Va bene così? Con quale dei compagni in questi anni all'Inter si è trovato meglio? Anche con quelli che magari non ci sono più Sappiamo della tua amicizia con Sneijder E prima era Sneijder, Cassano, Pupi Zanetti E Materazzi E ormai sono diventato napoletano un po' Però Però Adesso No Mi trovo bene tutti Con tutti Non posso dire Una persona Tutti Con tutti Allora Inizio tutto Volevo fare i complimenti Aiuto Perché è un ragazzo Che merita queste soddisfazioni Credo che Di rimanere ancora all'Inter Sia una bellissima cosa È una dimostrazione anche Da parte sua Di grande affetto Per Per la squadra Per il club Spesso ha detto Siamo all'Inter Quindi bisogna sempre pensare Che questa squadra Si rinforzerà In virtù di questo C'è qualche Incedibile Per l'anno prossimo O nessuno lo è? Iuto Incedibile Iuto Solo Iuto È affimato Un contratto oggi Quindi No Sì Sì Buongiorno A inizio stagione Iuto partiva sempre In panchina Adesso invece Gioca quasi sempre Il titolare Gli avete rinnovato Il contratto per tre anni Cosa è cambiato Nel giocatore Non è che partiva In panchina Avevamo Otto difensori E all'inizio Aveva iniziato Con altri giocatori Che stavano facendo bene Ma non è che Non stava sempre In panchina Giocava Non giocava così Perché eravamo Eravamo tanti Poi Iuto Ha iniziato a giocare Ha giocato bene Sia a destra Che a sinistra Quindi ha meritato Di essere titolare Grazie 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 Ok Grazie Io non capisco C'è questo No Non capisco Hai imparato bene Giapponista Adesso Per Sia a Sia a Sia a Sia a Grazie a tutti. 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 3年間どういう課題があると思われますか? 自分のレベルが上がったともまずは思っていないですし 課題だらけでやるべきことはいっぱいありますけど 一つ言うと本当に厳しい状況でした 始まった頃は厳しい状況で ただ絶対に自分なら レギュラーを取り返せるという自信は当課にあって それでインテルに残ろうという選択をしました 個人的には桜の木というものが好きで 今は桜の時期ですけど 本当に桜の木はどんな状況でも どんな風が吹いても嵐が来ても 常に耐えて自分が輝く日を待って耐え続けている その本当に気持ちがすごい大事だと思っていて 僕もどんな時も これを耐えれば必ず輝く日が来ると信じてこれまで来ました ただまたもちろん壁は来るし 厳しい状況もまた来ると思います3年間のうちに でもどんな時も努力を忘れずに 自分の夢をしっかりと持ってその目標を叶えるために 日々努力することだけを考えてやっていきます 夢はどういう夢でしょうか 夢はインテルで世界一になることです 先ほどインテルの方から3年契約提示があって すぐに受けたとおっしゃってましたが ただ契約更新に至るまで結構時間がかかったその理由をお願いします 時間がかかったというかもう実際に今だから話できますけど もう何ヶ月にも前にもう僕らは なんて言いますか 日本語でなんて言うんだろう? 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 うん まあ選ばもたっこと じゃあ たちメッセファ だから まあだから あのー あのー オーディメントだとジャポンエスや コンビド アデッソメロイタリアノ えぇ あのー そうです 何ヶ月前にももう えー 選ばもたっこと 日本語 合意してます はいそうです アディメントがとジャポンエス はい アディメント合意してたんですけど えぇ えぇ その子は えぇ えぇ ソロスト 合意を知ってたんですけど あのー コンパ・イタリアとか えぇ 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 代表の方もあったので うん だからね その代表の後に まあ契約を交わそうということは こちらでお話してみました はい Però questo è stato davvero prima, quindi sono destrapposti. E, anche... I chiederti Sanehti 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 Per me, in modo che 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 in modo in modo a poter dobbiamo fare ove molto meglio, Grazie a tutti, grazie a tutti. Questo mi fa piacere perché con Yuto ho avuto sempre un grandissimo rapporto, ritengo che sia un grandissimo professionista. Ha sempre rispettato questa maglia e il fatto che voglia continuare questo percorso con noi, nei tempi di oggi non è semplice trovare delle persone che ci credono veramente. Allora io le faccio i complimenti per questo rinnovo e le auguro di continuare per tutto quello che sarà nel futuro perché credo che lui è una componente importante dentro di questo gruppo. Grazie a tutti. 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 e anche se si è diventato il mondo che si è diventato il mondo che si è diventato il mondo. Io voglio farlo. Adesso l'intel è iniziato con l'intel. L'intel è iniziato con l'intel. L'intel è iniziato con l'intel. Grazie a tutti. Sì, io ho fatto una domanda per Nagatomo che vuole diventare capitano dell'Inter, secondo lei Nagatomo è capace di diventare capitano dell'Inter? Qualche partita già l'ho fatto, ha indossato la faccia di capitano e credo che si sia sempre comportato bene. Io credo, come dicevo prima, che il fatto di questo rinnovo vuol dire che la società ci crede in tutto quello che lui può e potrà fare e sicuramente uno dei referenti dentro di questo gruppo. Grazie. Grazie. Grazie.